Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 85esima puntata del podcast di Marcos Box, con il riassunto delle principali notizie della settimana appena trascorsa, oltre che alcuni schierari personali. Apriamo con questa puntata con una bellissima notizia da parte della Raspberry Foundation, che ha annunciato un nuovo prodotto, si tratta del Raspberry Pi 400, che cos'è? È un mini PC dal Fon Factor per i nostalgici, quindi ispirato ai vecchi computer degli anni 80. Praticamente, non so se avete presente il caro e il vecchio Commodore, è di fatto una tastiera con un Raspberry Pi integrato al suo interno. La versione che è stata integrata del Raspberry Pi è un Raspberry Pi 4. Ovviamente, la scheda madre è stata riadattata per funzionare al meglio, per essere ospitata al meglio all'interno del Fon Factor della tastiera. Offre un processore quad-core 64-bit da 1,8 GHz, 4 GB di RAM e IP DDR4-3002, Wi-Fi, Bluetooth, una doppia uscita video micro HDMI compatibile con i 4K a 60 fps, due porte USB 3.0, una porta USB 2.0, una porta Ethernet e ovviamente non manca un connettore GPO a 40 pin. Nonostante le sue dimensioni compatte, il Raspberry Pi 400 è in grado di dissipare ottimamente il calore, fondendo un computer sempre fresco e silenzioso. O almeno questo è quello che i sviluppatori di Raspberry ci hanno assicurato. È possibile acquistare un kit dal costo circa 100 euro, o più o meno a seconda dei rivenditori, che offre ovviamente il Raspberry Pi 400 con tastieri layout italiano, un mouse, una microSD con Raspberry Pi OS preinstallato, l'alimentatore, il cavo micro HDMI per poterlo collegare al nostro monitor, e infine una copia cartacea della official Raspberry Pi Beginner's Guide. Maggiori informazioni sul Raspberry Pi 400 le potete trovare sul sito ufficiale, su Marcosbox vi ho anche linkato un video che mostra un primo avvio di questo prodotto, quindi vi fa vedere come funziona. Dategli uno sguardo e se volete regalarmi qualche cosa per Natale, sapete cosa regalarmi. Se siete in cerca di un buono smartphone, con buone prestazioni e un prezzo non elevato, date uno sguardo alla recensione che Tano ha pubblicato su Marcosbox del suo Oppo A52. Si tratta di uno smartphone dal prezzo di circa 200 euro, che ha praticamente al suo interno tutto quello che al giorno d'oggi si può volere da uno smartphone, quindi offre connessione Bluetooth, NFC, USB Type-C, offre un sistema a quattro fotocamere, andatevi a leggere la recensione che il Buontano ha pubblicato sulle pagine di Marcosbox. Per gli amanti di KDE Plasma, questa settimana ho pubblicato una piccola antiprima della prossima versione del monitor di sistema di KDE Plasma, che grazie agli sforzi del team che si occupa del design, ma anche degli sviluppatori di questa applicazione, sta ottenendo un restyling e un nuovo back-end. Il restyling è davvero molto interessante, su Marcosbox trovate una serie di screenshot e fa vedere come il nostro caro vecchio Plasma System Monitor ha adesso un aspetto molto più moderno, fresco, intuitivo, facile da leggere e ovviamente, come da tradizione di KDE, offre anche una serie di personalizzazioni, perché è possibile aggiungere delle schede visualizzazioni personalizzate. Quindi, tipico proprio di KDE, metterci ovviamente anche su una cosa del genere 50.000 opzioni per personalizzarlo, per far renderlo più personale, che non lo so perché ho questa mania di rendere più personale qualsiasi cosa in KDE, però, eh, ci sta. E' anche uno dei punti di forza di KDE Plasma, una delle cose che lo fanno apprezzare dagli altri. Io ultimamente sono diventato vecchio e amo le cose semplici con poche opzioni in stile Gnome. Restando in ambito Qt, Qt? Come si pronuncia? Non lo so, non ho mai capito, perché alcuni dicono che si deve pronunciare come Qt, vabbè, comunque. Restando in ambito, quindi, di desktop environment basati sulle librerie Qt, è stata annunciata il rilascio di LXQT 0.16, la nuova versione del desktop leggero nata dalla fusione fra LXDE e Razor Qt, che è tornata ad aggiornarsi con interessanti novità che riguarda principalmente nuove opzioni per quanto riguarda il file manager, miglioramenti nel pannello, miglioramenti e correzioni di bug qua e là, miglioramenti nel terminale e quant'altro. Andatevi a leggere il changelog e fatemi sapere cosa ne pensate se utilizzate questo ambiente desktop leggero. Torniamo a parlare dello stato di sviluppo di Elementario S. La prossima versione stabile di Elementario S è basata su Ubuntu 20.04. Vi avevo parlato, nelle scorse settimane, dell'introduzione di due nuove caratteristiche volte a rendere il desktop più personale e moderno. La prima era il colore degli accenti, la seconda lo stile scuro. Quest'ultimo, lo stile scuro, è diventato oramai la norma sia lato desktop che lato mobile, tranne per Xiaomi che implementa lo stile scuro in una maniera molto discutibile. Se avete, come me, un smartphone con la MIUI 12 sapete a che cosa mi riferisco. Bene, originariamente il team di Elementario S aveva deciso di supportare lo stile scuro soltanto nella scelta del desktop. Successivamente hanno deciso di estendere il tutto anche per le restanti applicazioni. Operare queste modifiche però non è affatto semplice. come sempre, in quanto l'applicazione di un tema scuro su un'applicazione pensata per un tema chiaro può generare dei mostri. Su Marcosbox trovate anche una serie di screenshot che vi fanno vedere i problemi in cui sono dati incontro i ragazzi del team di Elementario S. Ad esempio con l'applicazione Calendario. L'applicazione Calendario aveva una palette colori pensata per meglio adattarsi al tema chiaro, al tema di default. L'applicazione del tema scuro crea un orrore visivo. Quindi il team di Elementario S si sta adesso concentrando sull'applicare una serie di correzioni per rendere le applicazioni compatibili con il tema scuro, quindi con una nuova palette colori in modo da adattarsi al meglio anche al tema scuro. Altro problema che i ragazzi di Elementario S stanno affondando riguarda il supporto per le applicazioni flat pack che per ora per via della loro natura sandbox non possono sfruttare l'implementazione dello stile scuro di Elementario S. I ragazzi di Elementario S comunque hanno fatto sapere che stanno lavorando per garantire il supporto anche alla applicazione flat pack collaborando sia con i team di flat pack che con il team di Gnome. Nelle prossime settimane vedremo a che punto saranno arrivati i risultati e quali saranno le soluzioni proposte dal team di Elementario S. Sono molto curioso di provare questa distribuzione e questa prossima versione perché appunto mi intriga tutto questo sistema tutta questa cura che stanno mettendo nei dettagli non stanno soltanto applicando un tema scuro ma lo stanno facendo nel modo corretto quindi per garantire una coerenza grafica anche al tema scuro. Le ultime due notizie della settimana riguardano GIMP che ha annunciato il rilascio di GIMP 2.99.2 il primo passo verso GIMP 3 che sarà basato su toolkit GTK3. Le novità principali di questa nuova versione sono un'interfaccia utente basata sui GTK3 con supporto nativo per Wireland ed HIDPI un refactoring della pulizia del codice una nuova API per i plugin la possibilità adesso di realizzare i plugin con i linguaggi Python 3 JavaScript Lua e Vala miglioramenti nella gestione dello spazio colore e il render caching per migliorare le prestazioni. Su Marcosbox trovate un dettagliato articolo che vi illustra tutte quante le principali novità. Fra l'atto c'è stato anche un lavoro per quanto riguarda i temi. Adesso i temi sono compatibili con il formato CSS che è delle GTK3 quindi sarà possibile avere anche dei temi che si adattano automaticamente alla modalità scura o modalità chiara quindi davvero interessante. Andatevi a leggere tutte quante le note di rilascio di questa versione. Se volete provare questa nuova versione di GIMP questa versione di sviluppo di GIMP sulle vostre distribuzioni Linux bene potete farlo grazie al pacchetto in formato flat pack ufficiale rilasciato dal team di GIMP. Non è pubblicizzata la cosa perché sulla pagina principale pubblicizzano soltanto l'installazione della versione classica versione stabile ma è possibile utilizzare il canale beta presente sul flat tab di GIMP per poter installare la versione di sviluppo di GIMP quindi in questo caso la 2.99.2 Io l'ho installato su Popo S e devo dire che effettivamente i lavori che sono stati fatti per l'implementazione e per l'adattamento del GTK3 si notano nell'interfaccia e rendono tutto più moderno. Fateci un salto fateci un pensierino provatelo se avete la possibilità di farlo sulla vostra distribuzione e fatemi sapere che cosa ne pensate. Ebbene con questo si conclude qui questa 85esima puntata del podcast di Marcos Box lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con una prossima puntata del podcast Bye Bye Bye